Il direttore generale Asugi Antonio Poggiana getta acqua sul fuoco delle polemiche in merito al taglio degli alberi previsto nel progetto del nuovo comprensorio dell'ospedale di Cattinara al centro nei giorni scorsi di una presa di coscienza da parte di alcuni cittadini. C'è da sottolineare una volta di più la sensibilità di buona parte dei triestini quando si mette mano e ascia e si sacrifica il verde pubblico. In ogni caso Poggiana intanto precisa quell'area verde che in sostanza parte dall'attuale parcheggio per i dipendenti per arrivare alla zona del parcheggio di via Valdoni, quello meno utilizzato dei due a disposizione degli ospiti e dei parenti, non ha un valore naturalistico importante in quella zona sorgeranno il nuovo parcheggio di Cattinara e la nuova sede del Burlo. Poggiana però tiene a precisare che nel progetto è prevista la realizzazione di una nuova area verde dalle dimensioni fra il doppio e il triplo di quelle attuali, in una zona diversa logicamente, ed è questo che è già ora scontenta chi vi si oppone, giacché la zona prevista sarebbe meno adatta anche da un punto di vista geologico.